Andiamo a giocare oggi la battaglia di Tunisia e come potete ben vedere sono armato con il carro armato visto che lo volete vedere in azione non lo porto da tanto tempo sul canale eccetera 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 eccolo qui diamo un'occhiata a cosa possiamo fare con il nostro carro italiano se mi seguite da un po' sul canale ragazzi saprete perfettamente che io il carro armato su Enlisted l'ho portato soprattutto all'inizio d'accordo poi ho un po' variato per appunto portare dei nuovi contenuti aspetta mettiamo le HE che fanno l'esplosione si vede proprio l'esplosione del proiettile HE che dobbiamo difendere difficile il carro armato possiamo essere fregati se loro in qualche modo se loro in qualche modo passano da sotto ovviamente i proiettili non è che sono infiniti eh no 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 porca miseria oh che rabbia dovevo farla questa avevo il proiettile HE caricato miseria ladra avevo il proiettile HE caricato vabbè dai lui si è girato in tempo e poi mi ha preso non è un problema abbiamo il bombardiere con la bomba da 500 kg quindi possiamo andare a distruggerlo senza troppi problemi so perfettamente dove si trova sul settore di sinistra rispetto alla nostra base mannaggia la miseria però si si tranquillo so che sta la ci mettiamo un po' da arrivare ovviamente sganciamo una bomba e poi basta bombardiere eh adesso giusto per levarmi il carro armato da sotto le scatole vediamo se me lo tengono ancora spottato perfetto il veicolo era vuoto però vabbè 130 punti mi sa ci ha dato sì 130 io non sono male andiamo a difendere quella kill dovevo farla guarda mannaggia la miseria mannaggia ma ho visto bene ho visto bene avevo visto bene complimenti e stiamo dormendo però eh vediamo un po' di con il mortaggio andiamo dai poi interveniamo con bravo bravo no ah infatti mi colpisco pure da solo guardiamo di nuovo il carro armato dai misera ladra però dobbiamo fare molto di più dobbiamo fare ovviamente il carro eh non ha molti nemici nel senso che se rimanete sulla distanza e utilizzate il cannone e la metriatrice fin lì va tutto bene il problema sorge nel momento in cui eh arriva il bombardiere nemico o comunque qualcosa che vi sgancia la bomba in testa per capirci oppure qualcuno vi sgancia la bomba in testa per capirci oppure qualcuno vi va a dar cerchiare si mette nel lato e vi e vi massacra vi butta tutto quello che ha quindi questo va bene mettiamoci un po' sulla destra eccoli ora di tanto un carro armato però no 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 dai veloce il carro armato è cattivo raga io lo usavo molto all'inizio è una carneficina è una carneficina bravo infatti ho detto non è che mi sta guardando qualcuno e so due volte che mi frega sono due volte che mi frega sono due volte che mi frega questo due volte due volte che mi frega guarda guarda come ha flancato bravo vabbè sto soldato non ha neanche il medikit figurati ma guarda quello guarda ovviamente i membri dell'equipaggio diventano vulnerabili nel momento in cui devono uscire per per riparare il carro stesso va bene potete fare anche la combo in realtà carro aereo perché per esempio nell'invasione della normandia facciamo bombardiere caccia pesante alterniamo queste due tipologie qui invece potete potete tranquillamente fare bombardiere bomba da 500 e carro bombardiere la picchiata e carro è alternata in questo modo mi spiace non aver vinto però lo scontro contro il mio diretto avversario devo essere sincero uh stanno utilizzando ok non posso più stavo aspettando ma qualcuno è respawnato prima di me stanno anche cappando tra l'altro è certo che sta ancora là è normale bella non l'ha mancato lui ottima la differenza tra i giocatori che sanno quel che fanno e quelli che invece d'accordo è palese la differenza l'ho visto ma dai 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 posso utilizzarlo adesso un po' di artiglieria se me lo fanno utilizzare carro già tutto pieno non posso utilizzarlo e cappano lo sai che cappano non ho punti di riferimento tra l'altro sto cercando di andare un po' a fortuna se devo essere sincero si qualcosa ho colpito ma niente di interessante è Bella questa. Un po' meno questa. Bra. Stanno pushando questi, eh. Occhio, occhio che stanno pushando. Ci prendono il secondo cap. Se prendono il secondo cap, prendono coraggio. 5.46, eh. Forza. Anche un po' più esterno. Un rally point potrebbe qua. Sai che non è male qua, secondo me. Proviamo a flancare leggermente. Comunque avete visto in quel breve... In quel breve... Quella clip... In quell'episodio con il carro. Eh, si sente quando spari l'h sulla fanteria. No. No. Non ho avuto il tempo materiale di cambiare arma. Uh, ma qua siamo proprio al limite. Me ne sono accorto ora. Eh, no. Non ho avuto il tempo. Non ho avuto il tempo. No, non ho avuto il tempo. Beh non solo carro armato ovviamente Dobbiamo essere bravi a Usare tutto Bravo bella Questa è stata bella però hai avuto Il riferimento Dai E dai Stava bruciando Stava bruciando miseria Sono tutti fuori cari è tutto completo non posso utilizzarli Si potrebbe mettere una squadra potrei fare esattamente così Se c'è tempo e modo Più o meno qua dai Ah 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 Va bene Queste partite non è che stiamo facendo molto rally point pure distrutto No non me la fanno usare mica Non mi fanno mica usare la Quello sta con l'eco Eh vai bombardieri da picchiare vai Tac Ecco Capito che ti è bugato sto cercando di sbaggarti Non becchiamo nulla Dai che sei del là Dai che sei del là Dai che sei del là Eh lo prendono nel cap Ragazzi è vero che abbiamo un vantaggio però Molto Molto buono Però Facciamo attenzione Perché io di cap presi Due cap in 60 secondi Li ho visti Cioè Può succedere comunque Alleato Può succedere tutto Bravo 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 io Bravo tu Ho distrutto poche unità però eh Oh boys Aiuto Aiuto E' veramente qua sopra sono andati questi Ma ti pare Eh non ho nulla con sto soldato Solo il fucile che Che gli dico col fucile solo Bravo Allora vediamo se c'è tempo per un'altra Un'altra piccola pusciata Con il nostro carro Siamo un po' distanti Ovviamente il carro armato ragazzi Spamerà un po' distante rispetto alla zona di azione Altrimenti arriverà Cioè insomma Sarebbe troppo bello No invece c'è un po' di strada da fare Ci vuole un po' di tempo Oh ovvio Io lo sapevo Però Ok ragazzi Dai 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 Forza Questa no però Questa non me la dovevi fare proprio Cioè sono due Due Vuol farmi credere che non butto giù due assi di legno? Lo sto pushando Come viene Ma guarda quanto è distante No vabbè Strada più complicata Fatemi distruggere qualcosa Guarda Sono arrivato anche al limite della mappa Ma dov'è cavolo? Ma ragazzi miei Ci sono rimasto male Basta Ho sbagliato strada Ho sbagliato strada Infatti dicevo che c'era qualcosa che non andava No in realtà potevo No non ce l'avrei mai fatta Dovevo salire prima Errore Oh sul più bello Miseria Ma guarda qua Guarda Ma guarda qua dove stava il Non ci posso credere che errore ho fatto Di posizionamento Ma dai ragazzi Ma dove cavolo stavo andando Oh la kill quasi così Era Cioè sarebbe stata fantastica Comunque Questo rally point sta facendo Milioni di punti Sarebbe stata una bella kill Effettivamente In volo Fatto solo assist Guarda questo che rally point Che ha messo Ah meno male va Almeno abbiamo recuperato alla fine No sinceramente Il posizionamento Vabbè ci può stare Mi sono un attimo perso Con la mappa C'è qualcuno che sta Dove ti sei messo Lurido Lurido Ah Ah Vabbè la partita è vinta No non l'abbiamo fatto molto In questa partita Devo essere sincero Siamo fortunati Se arriviamo tra i primi Quattro No non l'abbiamo fatto molto Dovevamo fare molto di più Vabbè loro ormai sono finiti Non hanno più unità Forse tranne uno Che continua a sparare Ma poca roba No niente Finito No Allora In realtà La posizione No non Poca roba Abbiamo fatto Secondi 2949 Con 11 Squadre perse Il primo ha fatto All around All around Noi 58 kill Che come Posizione Come kill Diciamo Sono poche Però nel contesto Comunque siamo stati pagati Con una seconda posizione Che non è male Lui ha fatto 84 Però penso che sia stato Il giocatore Il giocatore che ha fatto Quella kill famosa Con la bomba Da 5.000 L'ha fatto Penso che in quella circostanza Ci ha dato lo stacco Per i punti D'accordo Loro ci hanno provato Erano anche nettamente Superiore Da quel che vedo Per quanto riguarda Apprettamente Il rango Però Qualcosa è andato Storto Allora Prendiamo anche qui La ricompensa In realtà Non c'è molto Da dire Su questa Sulla battaglia Di Tunisia Perché Al netto di tutto Il progresso Per l'MP40 Continua A livello 14 Poi le cose interessanti Sarà sicuramente Lo Sniper 2 Ma abbiamo un car 98k Abbastanza rodato In altre campagne E poi Forse qualcosa Di interessante Con il BF 110 C6 Però no Questa qui è premium Mi sono confuso Il 191 Squadra lanciafiamma A livello 17 Quindi c'è ancora Molto da lavorare Poi qui Avremo un cacciacario Ovvero il 75 32 M41 Che abbiamo visto Su War Thunder Se volete dare Un'occhiata Ancora una volta Il premium Con il BF 88 Sempre War Thunder E qualcosa di concreto I rider A livello 21 No nulla Diciamo che Come Di base Non vi da Il carro armato Arriverà Ci sarà La trasformazione In Panzer 3G A livello 28 Quindi veramente C'è ancora tanto Da sudare Mi verrebbe a dire Quindi Rimanendo con i piedi Per terra Possiamo ambire Nell'immediato Quasi immediato A prendere Sicuramente L'MP 48 L'MP 40 Scusate Che andiamo a mettere Dove serve Se vogliamo fare il cambio Con la 43 E poi lo Sniper 2 Ma in realtà È una squadra Che attualmente Ho levato Dalla combinazione Perché sto facendo Un po' di mortaglio Ok Ma non sono neanche convinto Quindi quella squadra Eventualmente possiamo Levarla E rimettere O un Anticarro Oppure Vediamo Quello che Insomma Poi decidiamo Di fare Ragazzi Vi ho terminato Io come sempre Vi ringrazio per L'eck Di commenti E le visualizzazioni No come sempre Ci vediamo Con un prossimo gameplay Ciao